Siamo qui per dire no ai doppi turni. I nostri figli dopo mesi di promesse da parte dell'amministrazione comunale, tutta, nessuno esclusi, si trovano ad essere costretti ad andare a scuola il pomeriggio perché non c'è stata la volontà politica, una volontà però generale, di reperire altre aule nel nostro territorio. Per cui saranno costretti ad andare a scuola il pomeriggio con tutto quello che questo comporta. Lo diciamo da tanto tempo, lo diciamo tutti i genitori. I ragazzi devono poter frequentare la scuola al mattino, il pomeriggio sono impegnate con altre attività che allo stesso modo delle discipline concorrono alla loro formazione morale e civile, cioè quella di cittadini consapevoli e attivi. Quindi noi ribadiamo il nostro no a questa soluzione che è stata trovata, perché non è una soluzione. Quindi chiediamo un ulteriore sforzo a che vengano reperite altre aule nel nostro territorio, dando la possibilità ai ragazzi di poter frequentare come tutti gli altri coetanei la mattina.